Come tutte le grandi città, anche Bari ha dei luoghi un po' più misteriosi, più nascosti. Girando per la città ci siamo resi conto che c'è questo... che cos'è? Questa è Piazza del Buon Consiglio, che è quasi interamente occupata dai resti di un'antica chiesa bizantina. Vale la pena fare un piccolo video di presentazione. Uno zombo. Cosa stai bevendo? La sciacquetta. Che cosa è? Ingranita di limone e acqua minerale. E basta? Sì. Zucchero c'è? Un po' no. Un po' no? No, non lo so. Non lo so. Maisini. No. No.